Bene, buongiorno a tutti anche da parte mia. Innanzitutto grazie a Paolo Righi per l'invito e grazie singolarmente anche ad ognuno di voi per il lavoro che abbiamo fatto insieme. Io ho ascoltato ieri con attenzione l'intervento di Paolo e anche questa mattina l'intervento dei rappresentanti delle varie province e delle varie regioni. E guardate, ci sono veramente tanti elementi di contiguità tra quello che fate voi e quello che facciamo noi come azienda. E soprattutto c'è un'altra cosa che ci tengo a dirvi, che ho visto anche così nell'intervento di Paolo e anche nell'intervento di Samuele adesso. C'è una filosofia comune che porta avanti la vostra federazione e anche il modo di governare della nostra azienda. Noi oggi come settore bancario siamo un po' attraversati, dovessi dire, da quattro grandi tendenze. La prima è quella legata al fatto che i nostri clienti hanno cambiato le abitudini. Ognuno di noi ha cambiato le abitudini. Questo oggettino che tutti noi abbiamo è nato dieci anni fa, è stato lanciato sul mercato a giugno del 2007. E questo però ha cambiato le abitudini del modo anche di vivere la vita quotidiana. Questo è chiaro che ha portato a dover adattare il modo di interagire con le persone. Paolo ieri diceva che la scena dell'agente immobiliare all'interno di un'agenzia immobiliare che aspetta i propri clienti che vengono a chiedere un consiglio per comprare o vendere una casa questo è un mondo che si è un po' asciugato. Pensate al nostro direttore dell'agenzia che aspetta i clienti all'interno della filiale che vengano ad aprire un conto. È un mondo che sta un po' scomparendo. Ed è legato alle cose che avvengono nella vita quotidiana dei nostri clienti. Quindi è naturale che si cerchino strade nuove. Il secondo aspetto è legato al fatto che, l'ho accennato anche Samuele prima, entrano nella catena del valore degli attori nuovi. Pensate al nostro settore, il fatto che ci sono le fintech che entrano a fare attività delle banche con una regolamentazione molto differente, ci sono i grandi operatori dell'internet che entrano a svolgere attività che fanno le banche. Amazon fa finanziamenti ai dealer sulla base del turnover e della velocità di scarico del magazzino che hanno. Allora, questa cosa porta un po' a modificarsi. Nel mondo immobiliare, lo avete visto già da un po' di anni con lo sviluppo dei portali, allora, l'agente immobiliare o l'app, lo sportello bancario o la banca digitale sono sotto certi aspetti anche sfide comuni. Io sono molto d'accordo con quello che è stato detto ieri. Alla fine, le reti di prossimità danno un valore aggiunto che è insostituibile. È chiaro che queste reti sono destinate a trasformarsi nel corso del tempo e soprattutto nel corso degli ultimi anni questo cambiamento è cresciuto molto velocemente. La trasformazione vuol dire che diventano molto meno transazionali e molto più consulenziali, molto più specialistiche. Voi sotto questo aspetto siete degli esempi della trasformazione che avete portato avanti nel corso di questi ultimi anni. Le banche lo stanno facendo con una certa viscosità e con un'accelerazione del corso degli ultimi semestri molto forte. Allora questa cosa quando uno diventa, come dire, meno che fa un qualcosa a basso valore ma che porta effettivamente la consulenza presso il cliente vuol dire diventare molto specialisti. Io ho sentito parlare prima in un paio di interventi dei responsabili regionali il tema della formazione, è un tema molto forte. Allora, signore, uno può essere specialista nel momento in cui conosce molto bene un mestiere. Sorrido quando alcuni miei concorrenti hanno scelto di fare un mestiere che non gli appartiene. Sorrido quando qualche anno fa sono venuti dei consulenti a proporci a me tarantola il fatto del progetto delle agenzie immobiliari che andava di moda. Poi sapete bene che i consulenti lo fanno in una banca, poi, come dire, fanno il copia e incolla perché funziona in genere. Quindi noi benedamente siamo un'industria stupida. In questo caso abbiamo avuto un guizzo di intelligenza di non copiare. Sapete qual è la domanda che gli ho fatto io a questi signori? Ed è anche, mi sono dato la risposta. Ma voi pensate che un bancario sia più bravo a consigliare a un cliente se comprare o vendere una casa rispetto a uno che è magari due generazioni che lo fa? La risposta è stata una risposta, come dire, evasiva. E questo ci ha portato ad andare su una certa strada. La seconda cosa è che il mondo sta cambiando su questo aspetto perché, lo avete visto, i portali stanno iniziando a farsi la domanda se aprire delle reti fisiche che qualcuno sta anche iniziando con grande difficoltà chiaramente non ha nulla a che fare con la vostra federazione e ci sono alcune banche digitali che stanno cominciando a farsi la domanda se è opportuno aprire degli sportelli fidici. C'è questa contiguità, bisogna avere questa capacità di essere elastici e di adattarsi al cambiamento. E arriva al terzo blocco di cose. Il terzo blocco di cose è legato ad una situazione strutturale in cui si guadagna di meno e ci sono più regole. E guardate, questa la contiguità tra il vostro settore e il settore bancario è altissima. Noi lavoriamo in una situazione dove chiaramente la marginalità è più bassa e ci sono gli interessi negativi. Se noi portiamo dei soldi alla Banca Centrale Europea dopo un mese, due mesi che li lasciamo quello che ci danno indietro è più basso rispetto a quello che abbiamo dato 40 centesimi, il tasso negativo. E questa è una cosa strutturale. La regolamentazione è molto cambiata. Pensate a Basilea e tutte le attività di MIFID 2 che entreranno in vigore adesso. Quindi c'è un contesto anche finalizzato a regolamentare di più le cose per cercare di far andare meglio. Pensate al settore immobiliare, la 141, come ha cambiato le cose. Allora, questa situazione è una situazione che durerà nel tempo. E voi conoscete bene questa cosa perché quando poi leggo sui giornali che le cose migliorano c'è più fiducia, è vero, ma se guardo al settore immobiliare le transazioni del 2016 sono state 528 mila che sono quelle che ci sono state nel 1997. Siamo ben lontani dalle oltre 800 mila transazioni che c'erano nel 2006 con dei prezzi, lo commentava anche Paolo ieri che sono un po' differenti. Quindi questa situazione strutturale di marginalità più complessa di quadro regolatorio più articolato ci porta a dover trovare dei business model nuovi. Lo accennava anche a Samuele prima. cercare dei business model nuovi io penso che si fanno e anche si testano insieme. Ed è la cosa che abbiamo fatto proprio con FIAI. Nel momento in cui noi siamo andati su una scelta di partnership piuttosto che farci le cose in casa. Il business model nuovo ha delle risposità bisogna cercare di farlo bene con chi conosce bene un certo tipo di settore. L'ultima cosa riguarda riguarda l'esperienza del nostro cliente che vedo anche qua molto vicina all'attività che svolgete. Alla fine il nostro cliente non compra il prodotto o il processo compra un'esperienza e voi siete maestri su questa cosa siete veramente maestri perché gli anni di crisi ci sono stati ci sono stati anche per le banche ma il settore immobiliare bisogna dire che è stato quello che è stato più colpito nel momento della crisi e la presidenza di Paolo la conosce bene perché lo commentavamo ieri sera si è vissuto un momento complicato della storia italiana. Allora nel momento in cui un cliente compra un'esperienza se questa esperienza è positiva questa esperienza la racconta ad un altro cliente che magari diventerà cliente della banca piuttosto che dell'agenzia immobiliare. Io penso che noi dobbiamo lavorare insieme su questo aspetto e guardate su questo non c'è portale o piattaforma che emozioni il cliente ed è questa la forza delle reti e questo è quello che può fare la differenza noi in banca stiamo adottando la robotica per chiudere i conti non per aprirli. Io ho detto al capo dell'operation trovassi anche il modo di utilizzare la robotica non solo per chiudere i conti ma anche per aprirli forse sarebbe come direttore commerciale più gradito da parte del sottoscritto. Però è così allora quando c'è qualcosa che invece può emozionare il cliente ed è solo la persona noi è lì che dobbiamo cercare di puntare e sul valore aggiunto che fa la differenza e sulla capacità di intuire sulla creatività sulla passione e guardate chiudo le mie riflessioni proprio sulla passione e quando penso alla passione penso al vostro presidente penso al vostro presidente professionista di peso ovviamente in senso metaforico vedo Samuele Lupidi che si sente offeso ma non ti devi offendere sotto l'aspetto del professionista di peso insomma è una bella sfida lo dico perché in tante situazioni anche un po' difficili con Paolo quando dovevamo prendere anche delle scelte all'interno della banca quando c'era la normativa che stava cambiando sul settore immobiliare quando stavano entrando delle nuove regole noi ci siamo sentiti più volte al telefono e abbiamo detto Paolo ma tu cosa ne pensi di questa cosa? Noi prendessimo questa strada come industria bancaria cosa ne pensi? se andassimo all'Oam e raccontassimo questa cosa come la vedi? Questa è stata la storia di collaborazione con voi ed è giusto che voi la sappiate questa questo aspetto anche di dietro le quinte perché è un qualcosa che magari non si racconta ma ha condizionato le scelte e guardate questo è stato sempre portato avanti da Paolo con grande equilibrio e soprattutto con grande trasparenza e lealtà ed è la cosa che io ho apprezzato di più io penso che le persone dopo un po' si dimenticano di quello che uno dice magari si dimenticano anche di quello che uno ha fatto ma le persone non si dimenticano di come le hai fatte stare di come le hai fatte sentire e tu Paolo ci hai fatto stare e sentire bene grazie a tutti 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 grazie a tutti